Eccoci al Fischer Center di Selfos in Islalda, un museo dedicato a Bobby Fischer, con la memorabilia, la fotografia, la storia, la scracchiera firmata da Kasparov, il mitico tavolo del match del 1972. Vediamolo dai vari angoli, chi ha giocato col bianco, chi ha giocato col nero, una serie di fotografie che riguardano il match, la parte sinistra su Fischer e la parte destra su Sparsky, o il contrario, scusate, e poi una serie di fotografie del Fischer, agli anni quando ricevette la cittadinanza islandese si stabilì qua. Il museo è piccolino, è una grande stanza, hanno molti libri che si sono dedicati a Fischer, luoghi aggrappati, le riviste dell'epoca. E poi in un angolino non può mancare un po' di scacchiere con un orologio, questa è anche la sede del circolo locale, quindi ci sono anche, diciamo, possibilità di divertimento giocando. facciamo il giro, un'ate, scacchiere, e giustamente due lampchini del mondo a fianco, quello di una volta, e quello di oggi. Bene, un visito anche per voi. Ciao a tutti!